952, dopo 5 minuti finisce la partita. 932, ammonito per nervosismo senese. 912, il Napoli chiede il calcio di rigore, cross di Scharf e braccio largo di Sciusco, l'arbitro lascia proseguire. 872, Palmeri recupera palla e va al tiro, respinto in angolo dalla difesa ucraina. 832, lancio per Zerbin che non impatta bene, Scharf si fa anticipare da Kusherenko, poi la sfera arriva a Schiavi che tira a giro palla alta sopra la traversa. 822, tiro di Palmieri dal limite dell'area, parata centrale del portiere e ospite. 812, nello Schaktare esce Krishived e entra Sciusco. 782, Goeol, errore del portiere dello Schaktar su cross di Otranto e Zerbina porta vuota non sbaglia. 772, ammonito per lo Schaktar Bodar per fallo su Sgarbi. 762, ammonito esposito. Nel Napoli esce Gaetano ed entra Sgarbi. 742, nello Schaktare esce Kulako ed entra Kuzmenko. 712, raddoppio dello Schaktar, Schiavi si fa rubar palla da Melichenko, quest'ultimo entra in area, e con un diagonale batte Schaefer. 682, spunto di Mezzoni a destra, cross in area, respinge la difesa ucraina, la palla arriva ad Otranto che va al tiro, palla alta sopra la traversa. 672, contropiede dello Schaktar, traversone di Topalod per Kornienko che calcia di piatto, palla che sfiora il palo, e finisce di un soffio alato. 652, nello Schaktare esce Kashkuk ed entra a Melichenko. 642, ci prova Yakimez dal limite, palla che termina sul fondo.